Ottavo giorno del mese di ottobre, siete i suoi notizi in un click, qui con me Lorena per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Intesa San Paolo con la divisione Imi Cibra forza il suo ruolo in Spagna. Erzegoke sostenere Israele per la pace. Genova donna denuncia violenza fuori da una discoteca. Steve McQueen era un attore complesso, antidoto il nuovo singolo di Teddy. Champagne Spirian 2024, la settima edizione Modena, fra il 20 e il 21 ottobre, Nica Costa, il successo a 9 anni con On My On. Oggi nel 1957 nasceva il calciatore italiano Antonio Cabrini e nel 1803 moriva il poeta italiano Vittorio Alfieri. Così come nel 2017 ci lasciava il giornalista sportivo italiano Aldo Viscardi. E chiudiamo con una frase di Publio Siro dove regna l'onore, la parola data è sempre sacra. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla nostra prossima Vini Rassegna Loredana.